Mailboxes etc. e in via Napoli 6, traversa Bingo, anno c'era inferiore. Infoline 081 92 25 193 Dallo scorso 9 luglio, giorno in cui sono stati pubblicati i bandi del corso concorso della regione Campania per la selezione di 1.225 unità di categoria C e di 250 unità di categoria D, proseguono a ritmi elevatissimi le candidature. Basti pensare che a tre giorni dalla pubblicazione del bando, già più di 40.000 aspiranti al posto fisso, avevano fatto pervenire l'iscrizione per partecipare alle prove preselettive, che si terranno entro settembre alla mostra d'oltremare. Dal palazzo di città di Cava dei Tirreni intanto hanno fatto sapere che l'ufficio Informa Giovani fornirà supporto a tutti gli interessati, con il proprio personale e le proprie attrezzature, nella compilazione della domanda nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 12. Ricordiamo che è possibile inoltrare l'istanza di partecipazione entro l'8 agosto sul sito www.ripamo.cloud Dopo gli iscritti, che si terranno successivamente alla prova preselettiva, gli donne inizieranno il processo di formazione, pagato 1.000 euro per 10 mesi dalla regione Campania. Al termine del tirocinio, dopo una prova orale, gli enti procederanno all'assunzione a tempo indeterminato dei soggetti risultati vincitori. E' questo solo il primo step del piano per il lavoro della regione Campania, che complessivamente prevede l'assunzione di 10.000 unità lavorative.